Ciao ragazzi, siamo qui oggi con una Golf 7 Variant. Vi faccio vedere un paio di attivazioni chiarine sulle luci posteriori. Allora, questi fari, che sono fondamentalmente divisi in due e due, abbiamo aumentato il numero di luminosità, diciamo, in frenata, facendo vedere appunto che si accenderanno tutti e quattro gli stop e in più abbiamo anche messo l'accensione delle luci di ingombro laterali con l'accensione del portellone. Ora vi faccio vedere che frenando, vedete, si accendono ora tutti e quattro gli stop, mentre prima si accendevano solo quegli esterni. In questo modo, quando frenate, siete molto più visibili. Vediamo anche poi come sarebbero normalmente accese le luci. Vedete, normalmente avete le quattro, però adesso, quando frenate, vedete, aumenta la luminosità di tutte e quattro le luci, mentre prima erano solo le luci esterne ad aumentare di luminosità. Ora spegniamo le luci e vedete che quando vado ad aprire il portellone, le luci laterali si accendono. In questo modo siamo visibili se lasciamo il portellone aperto lungo la strada nel caso in cui stessimo caricando e scaricando della roba dal baule. Quindi molto comodo, poi vedete automaticamente quando chiudete il portellone si spengono. Bene ragazzi, iscrivetevi al canale e ci vediamo per un prossimo video. Un saluto, ciao a tutti!